Ciao a tutti, sono Michele, faccio parte del team Pre-Sales di Prase ed oggi vi presento Proteus Lucius, un IP65 con 33.000 lume in output. Le particolarità di questo prodotto sono che all'interno sono presenti tre ruote Gobbo, due ruotanti e una fissa, due tipologie di Frost, una classica lineare e la seconda Wash, ciò che rende possibile utilizzare questo progettore in qualsiasi circostanza, sia all'aperto che al chiuso. Un'altra particolarità da non sottovalutare è la presenza della batteria a tampone. Questo renderà più facile il settaggio del progettore all'interno dei flycase senza doverlo toglierlo o alimentarlo. Per qualsiasi informazione visitate il nostro sito www.prase.it o il nostro canale YouTube.